E' un caso disperato, noi lo giudicheremo, a casa l'ho studiato, interessante appare. Cartella 23, vediamo cosa c'è, questa accusata nella nottata è andata a schiamata. Dove siete stata nella notte del 3 giugno? Questa corgetta voi sa per vorrà, con pretentà, ma verità. Sono stata a passo nella notte del 3 giugno, sulla strada che verso il monte va, insieme con papà. No, no, non è vero, ciò non è sincero, sì, lo proverò, quel che dico è proprio vero. Non voi siete stata nella notte del 3 giugno, sulla strada che porta verso il monte, lo vostro schiamata. Se avrò mentito, col cuor mentito, perdono chiederò, che c'è di male, se nel cantare, gran gioia provo ognor. Il pianto è bello, ma voi con quello svegliate la città, o questa corte, a chiusa e a porte, dovrà deliberare. Il pianto è vero, cosa dirà, chi lo sa, quel gran dottor, che mai dirà, mi vorrà non perdonare, chi sa, mi batto il cuore, la corte sta vicina per parlare. Dopo un'ora di gran discussione, la sentenza con serenità squillò. Poi per punizione canterete una canzone, se alla corte il motivo piacerà, sarete in libertà. Un sassolino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, banto chiede in su, banto chiede in su, giro, mi rigiro, sento ben te vu. Che cos'hai? Un sassolino nella carpa, guarda un po'. Che mi fa tanto tanto male, prova picchie, per cerco di cantar. Ma questo sassolino le fa sempre mal. Carissimi colleghi, che cosa ve ne pare, quando così le cose, dobbiamo perdonare. E' bello, siccome vogliamo provare, la relazione della questione in un archivio rimarrà.